salve a tutti da casa del papi allora questa è pallina che tra un po verrà dosata perché ormai è diventata quasi un orso e ve volevo far vedere una cosa perché stamattina non riusciamo a trovare mia allora qui non c'è qui non c'è qui non c'è da nessuna parte ma dove sta mia questo è il suo posto preferito guardate come sta mia nella cuccia di pallera ma guarda come sta no no non vi voglio far vedere allora questa è mia che roba la nostra principessa la queen quindi la regina non la principessa e tutto questo pallina non ti mangiare telefono e tutto questo succede a casa del papi ciao